Biglietto per favore Enuncerò il biglietto Ma come? Ma proprio lei? Eh sì, proprio io C'è anche il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli in uno dei nuovi spot realizzati da Conero Bus per la lotta ai furbetti del biglietto nelle vesti di addetta al controllo pronta a sanzionare chi, nonostante le tante e diverse possibilità pensa ancora di poter viaggiare senza pagare Conero Bus, la società per la mobilità intercomunale nata dalla fusione di due aziende di trasporto della città di Ancona ha presentato alla stampa il nuovo piano tariffario e degli abbonamenti ma anche una serie di iniziative per fronteggiare l'evasione potenziando le misure di contrasto e avviando un percorso di educazione e sensibilizzazione che coinvolgerà la popolazione e gli studenti in particolare Un piano illustrato da Prosciutti e Bevilacqua di Conero Bus con la vincitrice del concorso sulla legalità 2016 Seracini che ha spiegato il lavoro che verrà fatto in tre scuole della città e con il presidente della SPA Muzio Papaveri ad inquadrare tutta l'operazione Noi abbiamo una serie di iniziative per quanto riguarda i titoli di viaggio dove abbiamo i titoli verso i ragazzi, gli under 14, gli studenti, gli universitari con una serie di titoli dedicati a loro poi ci sono dei titoli dell'agevolazione per quanto riguardano le famiglie perché naturalmente è importante avere un'attenzione nei loro confronti come un'attenzione anche verso le persone disagiate quindi abbiamo gli over 65 con l'ISE sotto 18.000 euro che noi facciamo un titolo di viaggio a prezzo scontato in modo tale di andare incontro anche alle loro esigenze questo è sul discorso dei titoli di viaggio però noi lanciamo anche una serie di iniziative per il rispetto delle regole perché è fondamentale che vengono rispettate alcuni paletti mettiamo alcuni paletti iniziamo però dalle scuole cioè andiamo nei prossimi mesi da qui a Natale in tre scuole anconetane per far conoscere le regole del gioco quindi non è una presentazione del titolo di viaggio ma è una presentazione di come ci si comporta per prendere un autobus per quali sono le corse come si fa e quale attenzioni avere quindi sia se stiamo utilizzando un mezzo urbano sia non urbano e questo si aggiunge a una serie di iniziative che faremo anche sul territorio per far conoscere le nostre proposte appunto a tutta la cittadinanza per esempio metteremo sicuramente un maxi schermo all'uscita della stazione ferroviaria perché siamo lì abbiamo preso contatto con 100 stazioni per avere la loro autorizzazione in modo tale che chi arriva in treno conosce immediatamente dove sta il mezzo e se sta partendo o quanti minuti di ritardo non ce l'avranno ritardo perché i nostri mezzi sono puntualissimi però conosceranno immediatamente dove andare a prendere il mezzo per poi poterlo utilizzare andiamo a dare questa informazione all'utenza poi ci aspettiamo che l'utenza rispettino anche loro le regole quindi devono andare a pagare il titolo di viaggio naturalmente il titolo di viaggio noi abbiamo fatto anche lì alcune sperimentazioni sull'urbano sulla linea 92 si potrà salire esclusivamente davanti mentre contrariamente a quello che è oggi perché oggi si può salire anche da in fondo non più perché in fondo si esce quindi c'è questo tipo di attenzione e lo facciamo sulla linea 92 perché vogliamo educare gli utenti a questa novità sono abituati adesso a entrare sia davanti che dietro dopo no quindi iniziamo gradualmente poi vedremo l'ampliamento anche su altre linee mentre sull'extraurbano mettiamo un tornello per fare anche la sperimentazione di questo strumento questo potenziale perché nelle aziende che hanno messo il tornello a volte sono tornati indietro non è così vantaggioso perché naturalmente cambiano molto sui tempi di percorrenza quando ci sono 50 ragazzi che vogliono salire che è finita la scuola tutti in fila uno alla volta diciamo così che i tempi si cambiano paurosamente quindi non è così semplice e immediato allora bisogna sperimentare vedere quali sono i problemi per poi adottare le soluzioni migliori l'obiettivo è sempre quello di incentivare l'uso dei mezzi pubblici diffondendo al tempo stesso la cultura della legalità cercando di fidelizzare al massimo l'utenza con il progetto C alla terza Conerobus intende lavorare su tre fronti quello della cultura della comunicazione e del controllo a riguardo si va dall'aumento dei controllori saliti da 8 a 12 al giorno su orari e linee differenti all'adozione anche sperimentale di nuove misure come quelle dei tornelli che per il momento verranno montati su un solo mezzo 13.000 circa le sanzioni elevate ogni anno anche se come a livello nazionale pure ad Ancona se ne riscuote solo una su tre ecco perché è stato detto all'unisono bisogna arrivare ad una cultura della legalità che eviti il più possibile di fare le multe che vada invece ad innalzare quella soglia di coscienza civica che garantisce benessere e qualità dei servizi a tutti per il comune di Ancona presente l'assessore competente Ida Simonella diciamo che sul trasporto pubblico noi come città crediamo moltissimo faccio solo presente questo che statisticamente quindi dalle statistiche ufficiali noi siamo tra le prime dieci città italiane di media dimensione naturalmente non paracorabile alle città metropolitane per l'utilizzo del mezzo pubblico quindi la domanda di trasporto è estremamente elevata chiaro che come in tutte le città esiste un problema di portoghesi di coloro che non pagano e abbiamo deciso di mettere in campo iniziative diverse perché diciamo così perché la situazione si riduca gli effetti si riducono non solo il controllo sui mezzi ma anche delle campagne informative e delle campagne anche di politiche commerciali che incentivino anche l'acquisto dei mezzi da parte di fasce di popolazione più debole noi come comune che ricordo siamo i titolari in realtà delle tariffe cioè non le stabilisce con il robusto le stabilisce un comune abbiamo proprio deciso questo di non fare politiche di aumenti o di riduzioni indifferenziate ma cercare di lavorare sul sociale fasce deboli ma anche famiglie ma anche soprattutto ragazzi devo dire che il titolo di viaggio Under 14 che quest'anno tra l'altro promuoviamo ancora di più anche con un'offerta promozionale migliore che abbiamo introdotto soltanto lo scorso anno insomma molto di recente è uno dei titoli che ci dà più soddisfazione il che ci dice che possiamo lavorare sulla fascia giovane su una sensibilità anche diversa verso il trasporto pubblico e che insomma è un incentivo anche a fare meglio in termini di servizio grazie a tutti Grazie a tutti.